Prevenzione antincendio, stabilità sismica degli edifici scolastici, Forza Italia lancia l'allarme e parla di situazione emergenziale per alcuni plessi, perché consigliere Seggio? Noi leggiamo le carte, cioè le delibere che l'amministrazione Alessandrini ha prodotto il 22 di maggio, quindi praticamente per rispondere ad un bando regionale sull'adeguamento sismico e alcuni impianti delle scuole, è fatto il 26 di maggio alla regione Abruzzo. Leggendo le carte si evince che quattro scuole, quindi l'Andersen di via Salarecchia, l'Antonelli di via Virgilio, la Don Milani e la Michetti, sono a rischio sismico, hanno una soglia al di sotto della norma sismica e pertanto ci aspettiamo che come hanno fatto per San Silvestro Colle, dove hanno trasferito dal 26 di marzo, non attendendo la chiusura delle scuole, vengono trasferiti i bambini, e lo facciamo a giugno, non a settembre mettendo in difficoltà l'amministrazione comunale, trovino una soluzione alternativa per trasferire questi bambini in scuola adeguata sismicamente e con non problemi di certificazione della prevenzione incendi, come per alcune scuole di queste. Una di queste per intenderci è l'amichetti che si trova sul via del circuito, dove sono i vigili, ci chiediamo anche se i vigili abbiano questa certificazione oppure no. Ovviamente è una provocazione per questa, per sottolineare che non si possono fare gli annunci come ha fatto l'amministrazione Alessandrini e Cuzzi, già da settembre dicendo che siamo bravi, siamo belli e mettiamo in sicurezza tutto, spendendo solo la richiesta per la Regione Abruzzo che ha divenire la valutazione e eventualmente il finanziamento di questi progetti. Quindi sarà lunga l'iter e non si può ingannare la città dicendo che siamo bravi perché abbiamo messo a norma. Avete fatto solamente richieste e nella linea che avete assunto a San Silvestro ci attendiamo che l'assumino anche per queste altre quattro scuole, chiudendo le scuole e trovando alternative.